weee non fare il babbo da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone da yeee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi anche per oggi un bel po di news per quello che riguarda il futuro di fortnite oramai tutto il team di epic games è in piene vacanze natalizie così come voi siete certamente a casa da scuola e per questo dobbiamo aspettare la prossima patch corposa dopo l'epifania quindi sarà per il 6 gennaio sicuramente ma non dobbiamo preoccuparci ragazzi anche perché una volta arrivata la nuova patch saremo in uno schiocco di dita alla season 2 e ce ne saranno veramente delle belle nel video di oggi però volevo farvi vedere di nuovo le immagini anzi il gameplay del polar legend pack oramai è pronto per l'arrivo alcuni l'hanno già ottenuto in nuova zelanda se non ricordo male anche in spagna entro oggi dovrebbe arrivare entro questo pomeriggio anche per noi in europa e poi la skin albero una delle due skin gratis che ci vengono regalate durante queste winterfest è possibile ottenerla in un modo molto molto particolare non tutti ancora ma alcuni lo hanno fatto vi farò vedere un pochettino cosa bisogna fare è ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di fortnite prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a farmi compagnia in live su twitch dalle 8 alle 18 grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator xuderone mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video o prima la domandina io ve la devo fare ragazzi ci tengo tantissimo ai vostri commenti proprio qua sotto e la domanda di oggi è molto molto interessante ma te sei favorevole o contrario all'inserimento dell'elfo nel polar legend pack è una domanda molto particolare perché io sinceramente sono contento perché l'elfo mi mancava ed è uno di quelle skin che non pensavo uscisse mai più a te invece come sembra questa cosa scrivimelo qua sotto nei commenti ma quindi ciancio alle bande e mando alle ciance andiamo subito subito ragazzi a parlare di un argomento meraviglioso che tocca sicuramente il cuore viene pubblicato direttamente in un tweet da dottor lupo che dice in 24 hours gaming raised 2 milioni 339 mila e spicci per san jude thank you che cos'è cosa successo allora twitch ha voluto versare un milione di dollari per l'ospedale san jude è in america ovviamente un ospedale che particolarmente si concentra sui bambini quindi un children hospital questi bambini che purtroppo hanno malattie anche abbastanza gravi e terminali dottor lupo ha voluto aumentare la donazione in 24 ore hanno raggiunto la soglia di oltre 2 milioni di dollari che dovrebbe essere addirittura una cifra record mondiale per una donazione in così poco tempo ad un ospedale quindi sicuramente un applauso va fatto a questa meravigliosa iniziativa che ha sicuramente tutto il mio e spero anche il vostro appoggio e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi parliamo proprio del skin albero di natale o forse si chiamerà solamente albero un leakers dice una cosa molto interessante e ci possiamo anche fidare perché è veramente uno dei top al mondo è successo che alcuni giocatori hanno visto all'ingresso della lobby dedicata al winterfest che l'albero di natale vicino al allo schiaccianoci era in realtà la skin quella gratuita loro hanno avuto la possibilità di poterci cliccare sopra e una volta cliccato automaticamente è stata attribuita la skin al locker ovviamente io non so perché non abbiamo l'immagine della skin dato che qua le immagini vanno a caso ma se non ve lo ricordate è un albero di natale con dentro john c jones e appunto verrà regalata insieme alla skin del mammut sta da capire una cosa è probabilmente l'inizio della possibilità di giftare questa skin a tutti i giocatori o è semplicemente una cosa randomica io sono certo che tutti otterremo questa skin voi ogni volta che entrate nel nella lobby del winterfest che siate da console che siate da pc che siate da mobile provate ad andare sempre vicino allo schiaccianoci magari potreste essere uno di quei fortunati ad avere in anteprima la skin di john c albero di natale e avevate già intravisto l'immagine ragazzi eccolo qua finalmente il polar legend pack con tanto di descrizione che dice entra nelle competizioni sul ghiaccio con il polar legend pack che include appunto la frozen nog ops outfit il frozen fish stick il devourer che sarebbe il cattus tra virgolette e codename elf codename elf ha anche la variante minty quella che insomma tutti abbiamo chiamato così viola con le le fiamme verdi abbiamo appunto un'immagine un po più interessante ma voglio proprio lasciarvi per qualche minuto qualche secondo con il gameplay direttamente del polar legend appena aperto eccolo qua io 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Insomma ragazzi davvero molto molto interessante anche questo nuovo pack che rimarrà per sempre nei vostri ricordi qualora lo decidesse di acquistare Io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche oggi il video delle news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo alle 8 in live su twitch Ciao 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 Ciao